sabato 16 settembre la guardia costiera lascerà il servizio sul verbano lunedì presente l'ammiraglio nicola carlone del comando di genova è stato un momento di bilancio in questi 82 giorni di servizio dal 27 giugno data del loro ingresso alla sede di solcio di lesa in questa stagione abbiamo svolto 373 missioni percorso con i nostri mezzi nautici 2691 miglia marine pari a 4.000 chilometri sono state soccorse 75 persone in difficoltà prestata assistenza 12 mezzi nautici in avaria capovolti o addirittura affondati ha detto l'ammiraglio abbiamo emesso 16 sanzioni di queste due per pesca irregolare e 14 per la mancanza di sicurezza sui mezzi di diporto la guardia costiera ha confermato di essere in servizio per opera di prevenzione più che sanzionatoria soddisfazione per aver registrato un numero di annegamenti in calo rispetto all'anno precedente il sindaco di arona alberto gusmeroli ha annunciato il prossimo anno entreranno con il loro contributo economico anche i comuni di stresa e baveno la presenza oggi del sindaco giuseppe bottini e maria rosa gnocchi ne sono la conferma ci piacerebbe allargare il raggio dei comuni che sostengono questa iniziativa incontreremo anche il sindaco di verbania silvia marchionini affinché come comune capoluogo di provincia entra a far parte del gruppo che sostiene il servizio di perlustrazione del lago il controllo si è sviluppato anche nei confronti della pesca sia diurna che notturna e della vendita a volte esercitata senza autorizzazione l'ammiraglio carlone ha avuto parole di elogio anche per le due prefetture quella di verbania e quella di novara che hanno dimostrato un grande interesse e una forte sensibilità per il lavoro svolto dobbiamo essere grati anche alla croce rossa italiana spesso al nostro fianco alla guardia di finanza e i vigili del fuoco che sovente hanno collaborato nei nostri interventi le parole dell'ammiraglio l'auspicio è quello che il prossimo anno si possa estendere il servizio di guardia costiera sull'intero lago per un periodo più ampio ci adopereremo con gli organi competenti per raggiungere questo obiettivo le parole del sindaco di arona